Anticipazione Una Vita, giovedì 11 aprile 2019 Blanca, nonostante la presenza di Samuel e di Ursula, che le impediscono di raccontare che cosa le sta succedendo, riesce a fornire a Leonor un indizio molto importante. Arturo chiede aiuto a Felipe per convincere i vicini ad andare alle cena di beneficenza, che ha promesso di organizzare con l'aiuto dei suoi colleghi dell'Accademia. Celia ha un ruolo molto importante in tale faccenda. Diverse donne appaiono in quartiere e chiedono di Giacinto, cugino di Casilda. Leonor scopre che Nigo Cervera, figlio di un famoso esploratore, Cesar Cervera, è il nuovo acquirente della Deliziosa. Samuel sorprende Blanca e Diego intenti a parlarsi. Il ragazzo fa di tutto per smuoverla ed esultarla a scappare insieme a lui. Il più giovane degli aldai furibondo si avvicina a sorpresa al fratello e non esita a minacciarlo con la pistola di Ursula. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.